La BMW Serie 3 rappresenta sportività e dinamismo in un segmento di compatte premium. È un concetto che nasce 40 anni fa, nel 1975, quando le prime Serie 3 sono state introdotte sul mercato. Formula decisamente di successo, visto che la Serie 3 nel corso di questi anni ha venduto ben 14 milioni di esemplari a livello mondiale, arrivando a pesare un quarto delle vendite del gruppo BMW. La nuova BMW Serie 3 arriva a metà ciclo vita della sesta generazione e si rinnova incrementando dinamismo ed efficienza. Dinamismo grazie ai nuovi motori e soprattutto alla nuova dinamica di assetto. È stata modificata a livello di sospensioni e di rigidimento degli assali anteriore e posteriori, che permettono un maggiore dinamismo su strada. Al contempo arrivano i nuovi motori della nuova generazione Efficient Dynamics, soprattutto sulla motorizzazione di benzina, dove sono notevoli le novità che permettono di incrementare prestazioni e nel contempo efficienza. Tra i motori di benzina viene introdotto, tra l'altro, una nuova motorizzazione tre cilindri che debutta sulla Serie 3. Ma le novità non sono solo a livello di propulsione, sono anche a livello di estetica, anche se da questo punto di vista, essendo una vettura già riuscita, si è preferita cambiarla almeno possibile. Sono state modificate soprattutto a livello di gruppi ottici sia anteriore che posteriore, dove di serie troviamo luci diurne a LED che rendono il family feeling del gruppo BMW. Inoltre sono disponibili i fari completamente a LED al posto dell'Xenon precedente. La cognitività è al lavoro dell'auto ormai un fattore premium e fondamentale per qualsiasi tipo di vettura. La nuova BMW Serie 3 si aggiorna in questo senso utilizzando schede di trasmissione dati LTE, quindi con possibilità di connessione più veloce e con maggiore quantità di dati trasmissibili. Per questo motivo è ora disponibile anche la possibilità di aggiornare le cartine del navigatore direttamente online, quindi senza nessun tipo di connessione fisica e questo è possibile farlo per ben quattro volte l'anno completamente gratuito nel pacchetto del navigatore. La nuova BMW Serie 3 è già disponibile in concessionaria a partire da 30.400 euro. Grazie a tutti.